Siamo quasi a metà del percorso sinodale avviato nell'ottobre del 2021. Qual è il bilancio ad oggi per la Terra Santa? È difficile fare un bilancio a metà del percorso, in genere i bilanci si fanno al termine del percorso. Quello che posso dire è che l'ho inteso come una sorta di dissodare il terreno. Venivamo per varie ragioni da un periodo di stasi, senza giudicare, ma è un fatto così anche per motivi politici, sociali, tante realtà. Anche un periodo di transizione nella Chiesa, un vecchio patriarca, un nuovo patriarca, un'amministrazione apostolica, insomma tante ragioni che non è importante presentare ora. E così, allora non si può pretendere che dopo un periodo, chiamiamolo di stasi, improvvisamente tutto risponde, tutti vengono, ecco, dissodare il terreno, preparare il terreno poi per qualcosa di altro, l'inizio di un nuovo percorso, ecco. Questo penso di poter intuire sarà il bilancio finale. La Chiesa nasce nel Cenacolo e quest'anno a Pentecoste i vari movimenti e le varie realtà presenti nel territorio si sono incontrate e hanno organizzato una bellissima veglia. Che esperienza è stata? Beh, innanzitutto dobbiamo fare un salto, un passo indietro. Ho incontrato nel contesto del sinodo i movimenti, i vari movimenti e le nuove realtà ecclesiali di questi ultimi decenni, diciamo così, post-conciliari per essere ebrei, dove abbiamo cercato di ascoltarci un l'altro. E quello che dissi in quell'incontro, dissi che la Chiesa nasce al Cenacolo e nasce come Chiesa plurale. Parti, elamiti, medi, arabi, ebrei, romani e così via, erano praticamente tutto il mondo, era presente, erano diverse lingue, però si intendevano, erano uniti, insomma, dallo spirito. E io ho aggiunto che la Chiesa di Gerusalemme è ancora così, deve essere ancora così, fa parte della sua natura, cioè realtà non soltanto internazionali, ma anche carismatiche diverse, mosse dallo spirito, che però si devono parlare, devono parlare più o meno nella stessa lingua, si devono intendere, diciamo così. E poi è venuto fuori allora come proposta, per essere concreti, ogni anno qualcuno prepara la vedia di Pentecoste, che stanno preparatela voi insieme. E ho dissi subito però, deve essere qualcosa di vero e autentico, deve essere espressione di quello che voi state facendo, di quello che voi siete. Non fatemi vedere quanto siete bravi, che non ci interessa, che non è lo scopo. E lo dissi così, non di battuta, ma di provocazione, perché in genere i movimenti vogliono sempre far vedere noi, 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 noi. Però da lì è nata, la provocazione è stata presa, sul serio, ed è nato un cammino che nemmeno io avrei sospettato. Cioè che si sono ritrovati per cominciare a preparare la veglia, solo che hanno cominciato a parlare di sé, l'uno verso l'altro. Conoscersi, scambiarsi le esperienze. Allora è nato qualcosa di, come dire, un legame spirituale forte, insomma. L'eco che mi arrivava, mi erano sempre molto belle, molto positive. E questo mi ha fatto piacere. Per cui, la veglia di Pentecoste, che dal punto di vista, onestamente, dal punto di vista pratico, non è stata straordinaria. È stata anche a volte un po' lunga, un po' pesante, perché volevano mettere dentro di tutto, insomma. Però è stata vera. Una bella esperienza di verità. Credo che sia stato un momento bello del cammino di questa chiesa. Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo spirito, dice San Paolo ai Corinzi. Come possono le comunità, nella loro diversità, i vari movimenti, le varie realtà ecclesiali, sentirsi membra di un unico corpo? La prima cosa, non è facile. E non è facile, perché questa, la nostra chiesa, è una chiesa che ha come, purtroppo, come caratteristica, la tendenza, non tanto alle divisioni, ma alle distinzioni. La nostra diocesi comprende la Giordania, Israele, Palestina, Cipro, quei confini molto rigidi, quindi è molto difficile incontrarsi, in realtà locale, araba, in realtà internazionale, israeliani, palestinesi. Insomma, tutto porta a creare piccoli ghetti, uno a fianco all'altro. Allora, credo che la prima cosa da fare per sentirsi un unico corpo è parlare, comunicare, ascoltare soprattutto. Ascoltare non significa soltanto udire, significa cercare di mettersi in attesa dell'altro, dove l'altro diventa il soggetto, non io il soggetto, l'altro. Questo è già il primo passaggio importante. E poi, il secondo, quindi tra i movimenti, le nuove realtà ecclesiali, ecco, non vivete solamente per il movimento. È chiaro che il movimento importante è l'espressione del tuo carisma e si deve esprimere, questo è evidente, ecco, ma non vivete solo per questo. Tu fai parte della Chiesa. Lo Spirito Santo e il movimento, la vita, ogni comunità, trova la sua piena espressione nella Chiesa. Senza la Chiesa non ha senso. La prima cosa è mettersi in ascolto dell'altro e la prima cosa le altre esperienze simili alla tua o per tempo, per affinità, quello che è. Poi con il tempo interrogarsi, e questo forse sarà il passaggio che dovremmo fare, come portare, come essere un contributo per la vita della Chiesa. Quando penso alla Terra Santa penso spesso ai discepoli che in dodici, dopo la resurrezione, hanno dovuto portare l'annuncio nel mondo. Ecco, in che modo le comunità, le realtà ecclesiali in Terra Santa possono fare la stessa cosa? Qual è lo slancio, qual è la spinta, la missionarietà? C'è solo un modo, non ce ne sono altri. Tu puoi diventare missionario, tu puoi diventare annunciatore, solo dopo aver incontrato il risorto. La risurrezione non è un ideale, non è un messaggio, non è un'idea. Nel Vangelo non troverai nessuna descrizione della risurrezione, ma solo gli incontri con il risorto. Ecco, per cui tutte le nostre attività, le strategie pastorali funzionano se nascono da un'esperienza reale, che deve essere innanzitutto personale e questo forse è un po' più semplice, ma deve diventare poi anche comunitaria, ecclesiale. I dodici erano insieme nel Cenacolo. Ecco, e questo è più difficile. È ancora possibile oggi incontrare qualcuno, una persona e dire, ho incontrato il risorto, perché lo vedi. Ecco, incontrare una comunità e dire, ho incontrato una realtà viva, ho incontrato il risorto, è un po' più complicato, onestamente. Ecco, i movimenti e le nuove realtà ecclesiali ci possono aiutare in questo. Ecco, a liberarci un po' di certi fardelli anche culturali, storici, o che so io. Ecco, a aiutarci comunque a ritornare all'incontro con il risorto, non c'è altra via. Che cosa oggi la Chiesa di Gerusalemme ha, considerando il suo contesto sociopolitico e culturale, da dire alla Chiesa universale? Dunque, la presenza cristiana in Terra Santa corrisponde all'1% della popolazione. Quella cattolica ha lo 0,5% della popolazione. Quindi siamo, dal punto di vista numerico, un'esimia e minoranza. Quello che possiamo dire è, alle Chiese occidentali soprattutto, ma non solo, che sono così spaventate dei numeri che callano, che sono spaventate del potere che non hanno più, e così via, spaventate un po' da tante cose, non c'è nessun motivo per avere paura. Si può essere Chiesa e avere qualcosa di interessante da dire, a prescindere dai numeri. Aggiungo, forse la mancanza di potere rende la nostra parola ancora più autentica, perché la testimonianza non può essere separata dall'autenticità di chi la presenta.